In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giude Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azmi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero «Dove vuoi che prepariamo per te?» «Perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose «Andate in città, da un tale, e ditegli «Il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si immesa tavola con i dodici, mentre mangiavano disse «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose «Con lui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava i discepoli, disse «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo, con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli olivi. Allora Gesù disse loro «Questa notte per tutti voi sarà motivo di scandalo. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù «In verità, io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Gezzemani e disse ai discepoli «Sedetevi qui, mentre io vado lì a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, lo spirito è pronto ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compie la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse «Salve, rabbì!» E lo baciò. E Gesù gli disse «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse «Rimetti la spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora, come si compierebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla «Come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato, ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli iscrivi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse «Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'orinanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo «Abestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero «Ereo di morte!» Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo «Fa il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!» Ma egli negò davanti a tutti, dicendo «Non capisco che cosa dici!» Mentre usciva verso l'atrio, lo vede un'altra serva e disse ai presenti «Costruire con Gesù, il Nazareno!» Ma egli negò di nuovo, giurando «Io non conosco quell'uomo!» Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro «È vero! Anche tu sei uno di loro! Infatti il tuo accento ti tradisce!» Allora egli cominciò a imprecare e a giurare «Non conosco quell'uomo!» E subito un gallo cantò E Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte!» E uscito all'aperto, pianse amaramente Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato preso dal rimorso, riportò le trenta monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente!» Ma quelli dissero «A noi che importa? Pensaci tu!» Egli allora, gettato le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero «Non è lecito metterli nel tesoro, perché sono prezzo di sangue!» E tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia E presero trenta monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele E le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore Gesù intanto compareva davanti al governatore E il governatore li interrogò, dicendo «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose «Tu lo dici!» E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla Allora Pilato gli disse «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato a loro scelta In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse «Chi volete che io rimetta in libertà per voi? Barabba o Gesù, chiamato il Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua» Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù Allora il governatore domandò loro «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero «Barabba!» Chiese loro Pilato «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?» Tutti risposero «Sia così fisso!» Ed egli disse «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridarono più forte «Sia così fisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi» E tutto il popolo rispose «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli» Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano Salve, re dei giudei! Spottandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti Poi lo condussero via per crocifiggerlo Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce Giunti al luogo detto Golgotha, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte Poi, seduti, gli facevano la guardia Al di sopra del suo capo, posero il motivo scritto della sua condanna Costui è Gesù, il re dei giudei Insieme a lui, vennero crocifissi due ladroni, una destra e una sinistra Quelli che passavano di lì, lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo Tu, che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni Salva te stesso, se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce Così, anche i capi dei sacerdoti, con gli iscrivi e gli anziani, facendosi peffe di lui, dicevano Ha salvato altri e non può salvare se stesso? E' il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene Ha detto infatti, sono figlio di Dio Anche i ladroni, i crocifissi con lui, lo insultavano allo stesso modo A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio Verso le tre, Gesù gridò a gran voce E' lì, e' lì, le Masa Bactani Che significa? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano Costui chiama Elia E subito uno di loro corse a prendere una spugna La inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere Gli altri dicevano Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo La terra tremò, le rocce si spezzarono I sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, li risuscitarono Uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione Enterarono nella città santa e appavero a molti Il centurione e quelli che con lui facevano una guardia a Gesù Alla vista del terremoto e di quello che succedeva Furono presi da grande timore e dicevano Davvero, costui era figlio di Dio? Vi erano là anche molte donne Che osservavano da lontano Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe Anche lui era diventato discepolo di Gesù Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo Che si era fatto scavare nella roccia Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò Lì, seduti di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria Il giorno seguente, quello dopo la palasceve Si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore mentre era vivo disse Dopo tre giorni risorgerò Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al terzo giorno Perché non vengono i suoi discepoli Lo rubino e poi dicono al popolo È risuscitato dai morti Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima Pilato disse loro Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete Essi andarono e per rendere sicura la tomba Sicillarono la pietra e vi lasciarono le guardie Sicilarono la pietra e vi lasciarono le guardie